Sabato 4 giugno il mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo, in corso Giovanni XXIII, 15 bis, sarà la cornice di una giornata di festa dedicata a bambini, famiglie e de no appassionati, con tanti appuntamenti in programma al mattino e al pomeriggio, e la possibilità di fare acquisti dai produttori del mercato, non solo nel consueto orario 8-13, ma anche dalle 15 alle 20. A scuola di sostenibilità sarà il titolo dei laboratori didattici per i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie, che avranno come filo conduttore, in occasione della giornata internazionale dell'ambiente, i consigli antispreco per rispettare e tutelare la natura e il nostro territorio. I laboratori, 5 al mattino e 4 al pomeriggio, si svolgeranno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Dalle 17 alle 18 poi avrà luogo di bolla in bolla, degustazione di bollicine 100% italiane, fra cui Altalanga, Franciacorta e Valdobbiadine, prosecco superiore di OCG, con la guida di un sommelier professionista. La giornata si concluderà dalle 18 alle 20 con un aperitivo con musica dal vivo Brut e Bon, durante il quale il pubblico potrà assaggiare le bolle piemontesi degustando in abbinamento prodotti sani e genuini dei produttori di Campagna Amica in vendita al mercato. La partecipazione a tutte le attività è gratuita, ma si richiede la prenotazione al numero 0171 44 72 48 o tramite l'indirizzo email eca.cnchiocciolacoldiretti.it